Per avermi presentato, tra l'altro devo dire che il taglio del mio intervento sarà in qualche modo perpendicolare a quello dell'intervento precedente, mentre la professoressa Ronchi è andata in profondità su un aspetto abbastanza puntuale nel tempo della teoria della calcolabilità, io ho cercato di dare un taglio orizzontale e quindi cerco di parlare più estesamente possibile della storia dell'informatica in un senso abbastanza lato. L'origine di questo intervento è l'anno scorso, avevo fatto un intervento simile davanti al Club di Dirigenti Informatici dell'Unione Industriale di Torino e quest'anno, in primavera, direi, il professor Baldoni, con passo felpato, è entrato nel mio studio e mi ha detto, ah ma tu avevi fatto questo, senti, quest'anno c'è questa coincidenza, 40 anni del Dipartimento circa, 100 anni dalla nascita di Alan Turing, perché non facciamo qualcosa del genere? Io questo lo dico perché volevo appunto cogliere l'occasione, visto che non sono ancora in ritardo, per ringraziare il professor Baldoni di aver avuto l'idea, tempo fa, di questa giornata e di averla implementata, di essere stata in qualche modo una delle menti dietro questa giornata. Quindi grazie Matteo. Il sommario della mia presentazione consiste in alcuni capitoli, farò una breve cronologia dell'informatica, in senso sufficientemente lato, dopodiché inquadrerò all'interno di questa cronologia un evento che ha avuto luogo a Torino, nel 1840, un evento ben noto in un certo senso, io prendo questo evento come l'atto ufficiale di nascita dell'informatica e aggiungo una nota campanilistica, naturalmente l'informatica in realtà è nata a Torino, visto che siamo in tema di celebrazione. Questo evento io lo prendo come lo spartiacque tra la preistoria dell'informatica e quella che è la storia documentata dell'informatica e in parte anche un'anticipazione del suo futuro. Dopodiché vorrei soffermarmi su quelli che sono stati i precursori dell'informatica, anche lontani nel tempo, seguiti da quelli che sono stati i profeti. Ora naturalmente in genere, cioè al di fuori del mondo informatico, i precursori e i profeti non sono categorie necessariamente distinte, per esempio San Giovanni Battista era entrambi, però non era un informatico, effettivamente era un po' troppo senza testa per esserlo. In ogni caso all'interno di queste due categorie di persone si trovano spesso quelli che vengono chiamati visionari. Voi dovete sapere che contrariamente a quello che dice Simone Martini, la differenza tra l'informatica e le altre discipline scientifiche non è quello che ha detto lui, è il fatto che se siete un informatico e vi danno del visionario vi stanno facendo un complimento. Nelle altre discipline questo non succede. Quindi io cercherò di isolare appunto i visionari all'interno di questi gruppi di persone per poi far vedere come le visioni che questi studiosi spesso erano degli emarginati, cioè marginali dal punto di vista anche accademico, però hanno avuto queste visioni che sono state estremamente influenti, si propagano a tutt'oggi e anzi concluderò questa storia con una morale brevissima col tenore appunto di un ritorno al futuro per appunto fissare un po' quella che è l'idea guida della mia presentazione. L'idea guida che può essere esposta abbastanza sinteticamente, una fissa che io ho ma che molti hanno avuto nella storia di quella che io ritengo essere l'informatica, l'idea che il linguaggio sia una tecnologia per l'organizzazione e la trasmissione della conoscenza. Il fatto che il linguaggio venga considerato una tecnologia non deve spaventarvi nel senso che questa parola naturalmente è una parola tipicamente informatica, ho sentito parlare di logica del primo ordine come una tecnologia per il ragionamento, non ho ancora sentito parlare del naso come una tecnologia per respirare, però probabilmente sentiremo presto usare un termine del genere, però in questo specifico caso io ho scelto tecnologia appositamente, è una citazione tra l'altro, da una presentazione simile a questa che era stata fatta da Andris Van Dam all'anniversario della pubblicazione, il cinquantesimo anniversario della pubblicazione di questo fondamentale articolo di cui parlerò dopo abbastanza diffusamente, As We May Think di Vannevar Bush, è stato fatto un simposio all'MIT e l'organizzatore di questo simposio, uno degli organizzatori, appunto ha presentato la storia dei concetti introdotti e propagandati in questo articolo di Bush, ha presentato il linguaggio come una tecnologia e questo è un termine che non mi è sembrato fuori luogo. D'altra parte il pandan di questa concezione del linguaggio è che le nostre capacità di analisi e sintesi della conoscenza possono essere aumentate intervenendo sugli strumenti linguistici e sui meccanismi notazionali che utilizzano, che utilizziamo noi per esprimerle e questo appunto è un leitmotiv che troveremo sempre in tutti gli autori di cui parlerò, di cui farò anche soltanto menzione. È un'idea che tra l'altro ho trovato esplicitamente in quello che è il protagonista di questo evento che discrimina la preistoria della storia dell'informatica, possiamo rivelare subito il suo nome, Charles Babbage, che capitò a Torino qui appunto nel 1840, dopo vediamo in quali circostanze e quale fu il suo successo. Però prima di insistere su quest'idea, che può essere anche una mia idiosincrasia, insomma potrebbe non essere così affermata come idea unificante per la storia dell'informatica, volevo presentare una cronologia ufficiale dell'informatica come penso che molti di voi si aspetterebbero di trovarla. Questo è un lucido abbastanza denso, riassume i primi 32 mila anni di storia dell'informatica, con gli eventi che sono salienti, diciamo un estratto degli eventi salienti, però qui trovate appunto le cose che la maggior parte di noi si aspetterebbero di trovare in una chiacchierata sulla storia dell'informatica. Si parte ovviamente dalle osse intagliate che si trovavano, si sono trovati come reperti archeologici in molte caverne in Europa e dell'Asia minore, si è appurato che questi reperti hanno un significato aritmetico, sono l'origine del nostro senso del ritmo e quindi rispettando l'etimologia anche del numero. Servivano per fare di conto, però la storia all'epoca procedeva più lentamente e si deve arrivare fino a 3500 anni prima di Cristo per trovare l'utilizzo di quelli che poi nella Romanità vennero chiamati i calcoli. L'origine del termine calcolo è proprio questa, cioè i calcoli erano i sassolini che venivano usati per contare. L'origine di questi calcoli è naturalmente prima, nella mezzaluna fertile, gettoni di argilla per la contabilità. Recentemente si è capito che cosa servivano questi gettoni di argilla che venivano trovati in grandi quantità in questi siti archeologici enormemente associati a grandi città dove venivano molti scambi commerciali e ci sono state delle proposte recenti di interpretazione di questi ciotoli. Tra l'altro sono state trovate anche dei contenitori che ai raggi X si è scoperto che contenevano molti di questi gettoni. C'è una studiosa, un archeologo che si chiama Denise Schmand-Besserat, che contrariamente al nome lavora in Texas e ha proposto che questi fossero dei materiali che servivano per la gestione della contabilità. Questo è da un elemento semantico a questi ciotoli, elemento semantico tra l'altro interpretazione semantica dei ciotoli che è stata poi scoperta soltanto quando è stata scoperta la loro pragmatica, cioè quando è stato scoperto come effettivamente potevano essere utilizzati. Un altro enorme passo avanti nella storia del calcolo, appunto all'interno di questa cronologia dell'informatica, è la numerazione posizionale che ovviamente ha varie anticipazioni, è molto difficile ricostruire esattamente la storia in epoche così lontane, però intorno al 595 d.C. si afferma la numerazione posizionale, notazione che comporta anche l'utilizzo di questa cifra insignificante per certi versi ma enormemente importante che è lo zero e rendendo possibile l'esecuzione di calcoli seguendo degli algoritmi, cioè associata alla numerazione posizionale incominciano ad esserci i primi algoritmi per esempio per il calcolo dell'addizione. E in effetti intorno al 780-840 d.C. vive questo personaggio che è diventato un po' estrettamente associato alla nostra disciplina, Al-Qarizmi, matematico persiano che porta la numerazione posizionale dall'India nell'Arabia, da cui poi noi erediteremo appunto questa notazione, il suo nome è proprio all'origine etimologica del termine algoritmo perché all'interno del suo libro, il suo libro di aritmetica, troviamo codificati forse quelli che possono essere considerati i primi algoritmi. La storia resta sopita per un po' nel senso che queste invenzioni vengono interiorizzate, nel Medioevo effettivamente non ci fu, con rarissime eccezioni che probabilmente vedremo dopo, non ci fu molta attività in questo senso, però subito ricomincia la storia a partire velocemente con Pascal che realizza questa macchina meccanica, calcolatore meccanico per somme e differenze, perfezionata pochi anni dopo da Leibniz, Leibniz è uno dei visionari che naturalmente ha le origini dell'idea dell'informatico, un enorme personaggio che tra l'altro inaugura la tradizione autorevolissima di quei pensatori che hanno pubblicato più da morti che da vivi, lui diceva che non lo conosceva, chi leggeva soltanto le cose che aveva pubblicato, infatti ha un lascito enorme, credo la biblioteca di Hannover, di suoi scritti dove possiamo vedere le sue visioni descritte in modo molto frammentario, che tuttavia ancora adesso hanno un'enorme attualità e poi sono all'origine di molte discipline nate poi molto più tardi che in Leibniz ravedono il loro padre fondatore, la logica matematica per esempio. Altri studiosi che hanno pubblicato più da morti che da vivi sono Usser, l'Usser ha un lascito di 50.000 fogli manoscritti stenografati, si sta ancora cercando adesso di leggerli tutti, nessuno ha ancora probabilmente finito, forse neanche Usser l'ha finito di leggere le sue cose, e l'ultimo in ordine di tempo probabilmente è Wittgenstein, che ha pubblicato un libro di 70 pagine, un articolo che poi ha sconfessato e ancora adesso stanno pubblicando cose di Wittgenstein, però è stato l'ultimo perché poi sono subentrati i criteri bibliometrici. Procedendo con i pionieri del calcolo meccanico troviamo naturalmente quello che potrebbe essere il grande protagonista della nostra storia, cioè Charles Babbage che realizza a distanza di pochi anni due calcolatori, uno dei quali funzionante, anzi alcuni esemplari ne sono stati prodotti, la macchina alle differenze, Difference Engine, e nel 1837 ha l'idea della macchina analitica, un perfezionamento appunto della macchina alle differenze in cui lui cercava di dare appunto una sistemazione meccanica a tutto il calcolo, quello che gli interessava o comunque quello che gli era noto. Dopodiché i calcolatori meccanici restano un patrimonio diciamo di un certo numero di appassionati, si deve aspettare fino a essenzialmente gli anni della seconda guerra mondiale per avere realizzazioni di calcolatori non più meccanici, questa volta forse elettromeccanici ma soprattutto elettronici. Abbiamo INIAC nel 1946 realizzato alla Muscle of Engineering, calcolatore utilizzato effettivamente per esempio per calcoli balistici, molto importante, tra l'altro mi è capitato non tanti anni fa, una ventina di anni fa, quindi non tanti, di essere a un parco in Filadelfia dove effettivamente questa macchina è stata costruita e all'interno della facoltà, in particolare persone vicine al preside che parlavano, che parlavano appunto di Mockley e Eckert come delle persone viventi comunque ancora perfettamente attive, cioè la presenza di INIAC alla Muscle of Engineering è ancora molto viva. Nel 1945 abbiamo non la realizzazione di una macchina ma qualche cosa di estremamente importante per la nostra disciplina, concretamente nasce in un rapporto a cui ha contribuito enormemente Johann von Neumann, quella che si chiama oggi l'architettura di von Neumann. L'architettura di von Neumann che comprende prima di tutto macchine con programma memorizzato e quindi una certa versatilità nel calcolo che INIAC per esempio non aveva e poi quella che viene studiata normalmente nel corso di architettura, cioè l'idea che c'è appunto il programma memorizzato in una memoria rapida ad accesso diretto e poi ci sono dei registri attraverso cui vengono prelevati i dati da elaborare all'interno di una memoria invece ad accesso relativamente più lento e comunque sempre facendo passare i dati attraverso questo collo di bottiglia come lo chiama poi Bacchus più recentemente, dei registri, i dati, i registri indirizzi che devono essere necessariamente sempre utilizzati per andare a prelevare i dati all'interno della memoria ad accesso diretto. La strada è pronta per la realizzazione di macchine più versatili e anche più facilmente utilizzabili. INIAC, se voi entrate appunto alla Moscow Engineering sulla destra c'è un gabiotto come il nostro acquario dove ci sono delle vestigia di INIAC, non tutte, alcune e le fotografie delle persone che ci hanno lavorato, quindi questo prendeva una stanza forse di più, nel 1972 incomincia a fermarsi l'idea di un personal computing soprattutto per opera di un gruppo di sovversivi del Xerox PARC che lavoravano intorno a Lankey che hanno recepito delle idee di personaggi di statura immensa che poi vedremo, uno di questi Engelbart per esempio e hanno contribuito a realizzare queste macchine che poi hanno dato origine appunto a quelli che molti di noi hanno, Macintosh e vari altri strumenti che poi sono stati in qualche modo rifiniti e copiati anche e raffinati. Nasce appunto il Macintosh nel 1984 e nel 1990 su seguirsi molto rapido di eventi, naturalmente poi la storia continua, come dico speriamo appunto se non finisce il mondo prima, nel 1990 il nome appunto di questo dominio info.cern.ch il primo indirizzo di un server web che è quello del server del CERN di Ginevra e questo fa un po' il punto di questa panoramica volo d'uccello sui primi 32 mila anni di storia dell'informatica perché la storia che segue appunto il web è storia recente, più o meno quello che noi stiamo facendo. L'evento di cui voglio parlarvi e da cui prendo le mosse avviene a Torino nel 1840 e avviene subito dopo che Babbage ha l'idea della macchina analitica, macchina analitica che non ha un grande successo in Inghilterra, in effetti Babbage è molto contento di venirne a parlare in Italia, nel suo paese non ha trovato una calorosa accoglienza che sperava forse, allora viene a Torino e questo evento dovete essere estremamente importante per lui perché la sua autobiografia incomincia con questa dedica, io non ho messo tutto perché non ci stava nel ritaglio, è una dedica a Vittorio Emanuele II, nel dedicare questo volume a sua maestà io sto anche compiendo un atto di giustizia alla memoria del vostro illustre genitore. Nel 1840 il re Carlo Alberto ha invitato gli scienziati italiani a radunarsi nella sua capitale, a richiesta del suo più dotato analista, plana, ho portato con me i disegni e le spiegazioni relative alla macchina analitica, questi furono completamente esaminati e la loro verità, cioè la loro appropriatezza venne riconosciuta dai più eletti figli dell'Italia. Al re vostro padre, io sono indebitato per questo riconoscimento pubblico e ufficiale di questa invenzione, io sono contento nell'esprimere, sono lieto di esprimere il mio profondo senso di obbligazione al suo figlio, il sovrano dell'Italia Unita, la terra di Archimede e Galileo. Questa è la dedica dell'autobiografia di Babbage, Passages from the Life of a Philosopher, lui si chiama a se stesso filosofo per Antonomasia, è un altro una biografia abbastanza divertente, poi magari farò un piccolo estratto, racconterò effettivamente come si svolge un capitolo, ci sono anche notizie di vita mondana della corte, insomma è una cosa, una lettura abbastanza varia che potete fare gratuitamente perché si può scaricare dalla rete, l'inglese non è proprio quello aggiornato, comunque chi era Charles Babbage? Charles Babbage era un matematico in realtà, era un matematico, un polymath come si direbbe in Inghilterra, cioè un erudito, insomma ne sapeva di cote e di crude in un certo senso in molti campi, però soprattutto era un algebrista e nasce scientificamente all'interno di quella che viene chiamata da lui e dai suoi amici, Cambridge Analytical Society. Il problema era all'epoca una cosa che era lamentata da molte parti, cioè che la notazione dell'analisi in uso in Inghilterra fosse estremamente sottosviluppata, molto più avanzata fosse la notazione continentale per calcolo differenziale. Babbage assieme ai suoi amici che vedremo dopo menzionati, Peacock e Herschel, ritiene che sia tempo di finirla, cioè sia necessario importare la notazione continentale che dovrebbe soppiantare quella di Newton del calcolo delle flussioni, quella che annotava la derivata di una funzione con un punto sopra la funzione, sia necessario sostituire questa notazione inefficiente con la notazione di Leibniz, d su d x, per la derivata di una funzione. E scrive addirittura un pamphlet Babbage a questo proposito che si intitola, con un doppio gioco di parole, The Principles of Pure Deism in Opposition to the Dot Age of the University, che significa i principi del puro diismo, di sta per operatore di derivata, in opposizione alla demenza senile dell'università, perché Dot Age è appunto questo gioco di parole, significa, si riferisce al fatto che le derivate venivano segnate come dei punti, però in realtà la Dot Age è l'età senile, cioè la demenza senile che questi giovani scapestrati ravvisavano appunto nell'ambiente universitario dell'epoca. È molto interessante questo, perché questa è l'origine della fissa di Babbage per le notazioni. Se voi vedete le opere di Babbage, come direbbe mia madre, la fissa di Babbage per le notazioni, compaiono ovunque. Ci sono notazioni naturalmente per la matematica, perché la sua idea era, secondo il motto che ho scelto, è uno dei primi lucidi, cioè l'idea che modificando il linguaggio, perfezionando il linguaggio, noi perfezioniamo anche il nostro ragionamento. Ecco, questa idea è naturalmente presa direttamente da Babbage, la sviluppa in questo contesto, ma la applica per esempio alla descrizione delle sue macchine. Lui inventa delle notazioni per descrivere le sue macchine. Tra l'altro è uno dei primi che vede proprio nella struttura di una macchina un'organizzazione di tipo aziendale. Questo è una cosa che lui eredita da questo matematico francese che si chiama Deproni, che era stato incaricato di compilare delle tavole dei logaritmi alla fine del Settecento. Tra l'altro questo Deproni era stato influenzato dalla lettura, anche abbastanza superficiale forse, del libro di Adam Smith. Quindi assorbe da questo libro il principio della divisione del lavoro e lo applica alla sua realizzazione delle tavole dei logaritmi. Quindi lui vede questa struttura piramidale di questa azienda che dovrebbe generare le tavole dei logaritmi al vertice matematici eccelsi che preparano le formule e comunque hanno le idee dei teoremi, uno strato inferiore con un numero maggiore di matematici che invece predispongono appunto le formule che devono essere utilizzate e una base della piramide, un plotone di barbieri che fa somme e differenze. Ora, io ho cercato di capire perché effettivamente vengono usate dei barbieri. Io non me ne intendo molto di barbieri come potete immaginare, però sembra che dopo la rivoluzione francese fossero cambiate le mode. Molti barbieri fossero disoccupati. Allora, Deproni avesse avuto quest'idea di impiegare appunto i barbieri per fare somme e sottrazioni usando il calcolo delle differenze, questo è sufficiente per calcolare poi tutte le cose che interessavano per la realizzazione di queste tavole. E Babbage loda Deproni per quest'idea e in effetti la descrive con un'ammirazione interno di un libro che lui aveva scritto, tra l'altro uno dei suoi libri di maggior successo, che però non è relativo alle sue idee computazionali, ma relative invece alle sue idee di organizzazione aziendale. Ritornando a quello che Babbage realizza, appunto, vi dicevo, inventa la macchina alle differenze, di questa ne esistono alcuni esemplari, quelli originali penso che fossero 5, 1822, e 15 anni dopo all'idea appunto della macchina analitica. Viene a Torino per il congresso degli scienziati italiani, i cui atti sono naturalmente in rete, però non troverete niente di Babbage se non forse menzione del suo nome o forse neanche. Lui era stato invitato al congresso precedente da Leopoldo II, Gran Duca di Toscana, di cui era amico tra l'altro, non poteva venire e quindi lì c'è la comunicazione della sua impossibilità a venire, 1839. Nel libro del 1840 non c'è comunicazione di questo, però, della sua partecipazione al congresso, però Babbage racconta di aver portato, probabilmente girava con dei bauli intieri di mercanzia, aver portato dei piani della macchina analitica, delle parti meccaniche e del materiale che serviva per illustrare questo progetto. Tra l'altro io credo, chiedo conferma al professor mio e al professor Conte, ci dovrebbero essere questi piani perché sono stati donati all'Accademia delle Scienze, ci sono tutti i disegni. E lui dice... Manca soltanto il modello in legno che è sparito. Ah, che aveva portato anche un modello in legno. Un modello in legno, è vero, è vero. I piani sono magnifici anche dal punto di vista del grafico. E non sono mai stati pubblicati. Sono anche le rete, credo. Sì, ah sì? Il sito dell'Accademia si trovano... Ottimo. Benissimo, ecco, questa è un'informazione che non avevo. Molto bene, grazie. A Torino, sì. Sì, 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 sì. Immagino che ci fosse Campbell Kelly e questa gente che cura le opere di Babbage. Quello che viene raccontato di questi disegni è che Babbage affitta probabilmente un appartamento a Torino e lui li appende ai mure, alle pareti di questo appartamento, dove riunisce quella che è l'intelligenza, di fatto la scuola di Plana, dell'epoca. Questa intelligenza appunto è capeggiata da Giovanni Antonio Medeoplana, allievo di Lagrange, docente di astronomia di calcolo infinitesimale, il fondatore dell'osservatorio astronomico di Torino, credo che avesse sede a Palazzo Madama all'epoca, socio della Royal Society di Londra e questo probabilmente è il contatto che ha permesso di invitare direttamente Babbage, senatore del primo regno d'Italia, del primo senato del regno d'Italia. Un'altra persona importante dal nostro punto di vista è Luigi Federico Menabrea, nato vicino a Schamberi, morto vicino a Schamberi, però di fatto torinese, allievo di Plana, giovane. Plana non aveva tempo di prendere appunti alle presentazioni di Babbage e viene incaricato appunto, incarica appunto Menabrea di farlo, giovane ingegnere ed ufficiale del genio scrive un articolo che è il primo articolo di informatica mai uscito, nozioni sulla macchina analitica di Charles Babbage, questo è un articolo che non si trova così facilmente, io l'ho letto, non è particolarmente approfondito però è abbastanza interessante, soprattutto nella sua traduzione inglese che fu fatta appunto da Ada Lovelace con molte aggiunte tra l'altro e poi bisogna dire che effettivamente lo vedremo anche dopo, menzionerò questo fatto che Ada Lovelace era più brava di Babbage per fare il conchi, in effetti trovò anche degli errori in cose fatte da Babbage. Anche lui si dedicò alla carriera politica a un certo punto, forse con riluttanza però è ricordato per un'iniziativa abbastanza impopolare la famosa tassa sul macinato di cui mio nonno per esempio aveva ancora memoria non particolarmente bella. Un altro partecipante a questi seminari, Ottaviano Fabrizio Mossotti, non leggo bene e l'età proprio. Come? Ah non vedete neanche voi? Dovrei guardarmi più alle spalle. Mossotti ha questo curriculum sintetico però è interessante l'intervento di Mossotti che Babbage racconta nella sua autobiografia nei passaggi relativi appunto alla presentazione della macchina analitica, gli chiede come si fa a modificare il comportamento della macchina a seconda dei valori dei dati che devono essere elaborati. Quindi la prima comparsa del leave the nest, dell'istruzione condizionale a due vie, viene fatta in una domanda di Mossotti a Babbage e dopodiché poi naturalmente questa istruzione ebbe una certa fortuna soprattutto appunto con il lavoro di ricostruzione della programmazione strutturata di Berm e Jacopini soprattutto. Vi dicevo che l'autobiografia di Babbage è localmente molto divertente perché Babbage racconta quello che accade, quello che gli è accaduto e quello in particolare che gli accade a corte e c'è una serie di aneddoti che vengono raccontati e lui naturalmente come scienziato straniero viene ricevuto a corte con un invito ufficiale da parte credo del conte Alessandro Saluzzo di Monesiglio, credo, che era un altro dignitario di corte e lui si domanda come deve vestirsi, gli viene concesso di presentarsi con abito civile, entra in questa anticamera dove ci sono tutti questi alti ufficiali, alte cariche dello Stato, viene fatto entrare da Carlo Alberto, lo trova una persona molto alta, di rimarchevole altezza, viene fatto accomodare viene fatto accomodare e gli avevano detto il re è molto timido, probabilmente l'incontro si risolverà in cinque minuti e lui non voleva perché poi effettivamente voleva presentare le sue cose per cui con abile strategia di comunicazione finite le formalità quando il re sta per esaurire appunto gli argomenti, quando si capisce che il colloquio sta volgendo il termine, lui introduce il discorso del telegrafo elettrico che era un discorso che gli interessava particolarmente, trova l'interesse anche di Carlo Alberto che gli chiede dei chiarimenti, gli chiede che cosa può servire una cosa del genere e Babbage naturalmente gli menziona la possibilità di prevedere le tempeste, per esempio gli parla di una tempesta che aveva buttato giù in Scozia poco tempo prima 30.000 alberi e lui diceva ma insomma con questo arnese voi potete naturalmente da Genova potete segnalare le tempeste con grande giovamento ovviamente per la vostra flotta. Quindi si è parlato del tempo naturalmente anche in questo colloquio però questo colloquio ha avuto l'effetto di rendere molto simpatico, evidentemente a meno che lui non millanti questa simpatia, Babbage a Carlo Alberto che lo ricevette una seconda volta, una seconda volta perché Babbage volle regalare un ritratto di Jacquard fatto col telaio di Jacquard che lui si era procurato a Lione alla regina, all'epoca il protocollo di corte tra l'altro dei Savoia era uno dei più rigidi d'Europa quindi bisognava chiedere il permesso naturalmente alla regina ma la regina doveva chiedere il permesso al re e quindi insomma la cosa si risolve in un certo ritardo effettivamente nella consegna di questo ritratto che però fu effettivamente consegnato. Quando questo ritratto venne mostrato al re e qui si arriva alla scena comica c'era un po' d'aria, c'era un po' di corrente nella sala dove venne consegnato questo foulard diciamo di seta avvolto nella carta stagnola per cui l'aria fece volare per aria tutti queste farfalle come le chiama Babbage e lui cercò di acchiapparle non riuscendoci, il re corre in suo aiuto gli prende la scatola e insomma a un certo punto entrambi si trovano tutti e due per terra inginocchiati a raccogliere questi fogli di carta stagnola e Babbage osserva nella sua autobiografia che in conseguenza di questo fatto i due si guardano e un sorriso comico tuttavia gentile brillò sul volto del re mentre uno irreprimibile ma non irriverente ha acceso il mio, quindi una certa informalità anche in questi rapporti. Dopodiché Babbage ovviamente visto che era tempo di vendemmia fu invitato alla vendemmia a racconigi e fu deliziato di questo perché non aveva mai visto niente del genere. Il successo a corte di Babbage potrebbe essere testimoniato da questo ritratto autentico di Cavour al computer successivo naturalmente all'evento del 1840 presumibilmente questo è l'inizio della relazione fruttuosa tra Cavour e le mele perché questo è un apple. Ma Babbage naturalmente non nasce in vacuo, nasce sul terreno fertile di un certo numero di precursori questi precursori risalgono anche ad anni molto lontani nel tempo. Vi ho menzionato prima Leibniz, Leibniz è questo gigante della filosofia naturalmente ma anche della matematica abbiamo visto prima la notazione per il calcolo differenziale quella che poi usiamo ancora adesso deriva da lui aveva delle idee strane per cui poteva essere considerato giustamente un visionario aveva quest'idea in particolare di una scienza generale qui continuate ovviamente a non vedere la scienza generale scritta in rosso strumento capace di organizzare i ragionamenti in modo da raggiungere in ogni campo il rigore caratteristico delle scienze matematiche questo era l'obiettivo e questa scienza generale consiste in alcune tappe le principali delle quali sono la realizzazione di un'enciclopedia del sapere umano e la costruzione della caratteristica la caratteristica è un antesignano appunto della moderna logica formale, logica simbolica e l'arte di formare ed ordinare i caratteri in modo tale che abbiano tra loro quella relazione che hanno tra loro i pensieri nell'idea che vi ho descritto all'inizio quest'idea che la storia dell'informatica almeno nella mia visione si identifica spesso con la storia dei tentativi che vengono fatti per creare linguaggi artificiali per migliorare le capacità di ragionamento per creare questi telescopi del pensiero in cui noi possiamo analizzare i dettagli delle inferenze ecco, Leibniz è sicuramente il rappresentante più eminente di questa idea quasi proverbiale perché appunto contribuisce non soltanto con quest'idea generale ma come vi dicevo prima addirittura contribuisce con la realizzazione di strumenti meccanici concreti o addirittura contribuisce e questa è una cosa che avrei forse dovuto dire prima perché effettivamente è una cosa importante contribuisce con la divulgazione se non la creazione del sistema di numerazione binaria perché Leibniz era interessato alla scrittura cinese perché naturalmente nella realizzazione della sua caratteristica ravvisava nella scrittura cinese per ideogrammi la possibilità appunto di una lingua del pensiero un po' l'idea di Frege poi successivamente e quindi conosceva la filosofia cinese almeno relativamente a certe branche gli fu comunicata quest'idea della numerazione binaria non so se lui ce l'aveva avuta indipendentemente prima comunque i gesuiti che erano in missione in Cina gli descrivono questa idea insomma i segni associati allo yin yang nella filosofia cinese quindi il loro utilizzo nell'i king e scrive in una lettera tra l'altro citata da un articolo di Giuseppe Peano sulla notazione binaria non so se c'è mai stato nella scrittura cinese un vantaggio prossimo a quello che deve necessariamente esserci in una caratteristica come io la progetto cioè che ogni ragionamento che si può trarre dalle nozioni potrà trarsi dai loro caratteri a modo di calcolo che sarà uno dei modi più importanti di aiutare lo spirito umano quindi vedete che c'è una partecipazione emotiva forte di Leibniz verso la filosofia cinese e da questa filosofia lui trae tra l'altro come sottoprodotto anche la numerazione binaria con la sua decodifica che a quanto gli comunicavano i missionari cinesi era andata persa cioè i cinesi non sapevano più cosa farsi in quella notazione quindi la caratteristica ha alcune caratteristiche tipiche della logica moderna creare un alfabeto dei pensieri umani concetti primitivi determinare regole per ridurre i concetti complessi e quelli primitivi concetto di analisi associare segni ai concetti primitivi specificare regole per manipolare i segni e specificare regole valide di inferenza con cui passare da una combinazione di segni semanticamente significativa ad un'altra prima di Leibniz e l'ho dato da Leibniz qui viene menzionato Lullo mistico medioevale che voleva elaborare un sistema di logica adatto a convertire gli adepti delle altre religioni monoteiste quindi voleva convertire il cristianesimo sia agli ebrei che ai musulmani elabora la sua logica la sua arte combinatoria e dà origine in effetti a quella che è la matematica combinatoria attuale troviamo i primi conti che possono assomigliare appunto a un'enumerazione di combinazioni influenzò Leibniz che lo conosceva naturalmente e poi abbiamo subito dopo gli echi di un altro filosofo importante non tanto per le sue connessioni col meccanismo però per le sue connessioni con l'ideologia dell'intelligenza artificiale forte Hobbes viene sempre menzionato per questa sua insistenza sul pensiero come calcolo il ragionamento come calcolo nasce come idea nel De Omine in particolare in questa parte del De Omine che si intitola Computatio Civilogica nel 1655 per ragionamento poi intendo il calcolo Computatio calcolare significa raccogliere la somma di più cose aggiunte l'una all'altra oppure se si detrae una cosa dall'altra conoscere quel che rimane quindi ragionare è la medesima cosa che addizionare e sottrarre pensate Pascal e anche Leibniz realizzano macchine per addizionare e sottrarre quindi probabilmente dovessero sentirsi molto realizzati di sapere che secondo Hobbes il ragionamento si riduceva esattamente a queste operazioni c'è oltre a questi autori un filone di autori di filosofi del Settecento che privilegia gli aspetti linguistici ricordo soltanto visto che adesso incomincio a essere quasi in ritardo Condillac abate scrive e viene poi pubblicato postumo un libro che si intitola Lingua dei calcoli dove prende l'algebra a modello della logica diciamo l'algebra come modello di linguaggio perfetto in più tenta una costruzione di una grammatica dell'algebra con Condillac e con i suoi successori l'algebra assume un ruolo predominante tra l'altro Condillac queste idee di Condillac influenzarono anche Lavoisier quindi anche campi diversi dalla matematica Lavoisier scrive un discorso generale come prefazione al suo trattato alimentare di chimica e riassume esattamente le posizioni di Condillac di cui lui era allievo poi c'è tutta una generazione di ideologi di Studi de Trassi Mende Biran tra questi non particolarmente allineato con Condillac ma naturalmente influenzato da lui Desgerendot Desgerendot mai sentito naturalmente si trovano tutte le sue opere sulla rete dei segni dell'arte di pensare considerati nei loro rapporti reciproci quattro volumi noiosissimi che evidentemente Babbage deve aver tentato di leggere se non altro perché cita Desgerendot il suo articolo molto famoso sull'influenza delle notazioni sul ragionamento dei matematici e arriviamo appunto al punto di partenza cioè alla Cambridge Analytical Society abbiamo visto da dove è partito Babbage qual era il suo sfondo concettuale per arrivare ai suoi compagni di società una specie di società segreta Pico che è Herschel in particolare questa società pubblicò un solo volume di memoirs nel 1812 direi poi sparì e poi tradusse un trattato credo di Lacroix di analisi che era fatto sui principi del calcolo algebrico alla Lagrange che ebbe un enorme successo e contribuì moltissimo a diffondere questa notazione operatoriale nell'analisi dell'epoca tra l'altro la base di queste considerazioni c'era un'idea che nasceva da Pico che in effetti poi divenne molto importante con un algebrista scusate un analista ma alle origini dell'algebra stratta che si chiamava Duncan Farquhar Gregory nel 1840 ha scritto un articolo molto importante dove descriveva questo principio che è il principio appunto a cui portano poi queste riflessioni anche della Cambridge Analytical Society il principio di separazione dei simboli di operazione dai simboli di quantità questa è la tecnica che ha poi permesso la costruzione dell'algebra stratta separando le operazioni dalle quantità su cui queste operazioni agivano e permettendo di studiare in isolamento le proprietà algebriche diremmo oggi delle operazioni quindi la commutatività e varie altre proprietà che poi diedero origine al calcolo algebrico quindi il calcolo nasce anche da questi problemi interni dell'algebra dopo Beb abbiamo Ada naturalmente io quando ho disegnato questo lucido e poi prevedendo le obiezioni della professoressa Ronchi ho detto forse Ada è un po' piccolo allora questa è la versione politicamente corretta del lucido precedente Ada si chiamava Ada si chiama Lovelace ma era la unica figlia di Lord Byron il poeta una vita abbastanza tormentata questo è il suo unico retratto decente in tutti gli altri somiglia una Barbie capì perfettamente la mentalità di di Babbage e anzi aggiunse dei contributi originali suoi importanti io ho preso soltanto sempre per assecondare la mia fissa delle citazioni che ricordano appunto e rinforzano questo messaggio diciamo notazionale di Babbage possiamo dire che il motore analitico tesse dei pattern algebrici esattamente come il telaio di Jacquard tesse dei fiori e delle foglie dopo le memorie scritte da Menabrea sulla macchina analitica e tradotte da lei stessa con aggiunte come dicevo prima l'intero sviluppo e le operazioni dell'analisi sono ora in grado di essere eseguite meccanicamente quindi una conclusione estremamente ottimistica in questa linea virtualmente una linea di metropolitana poi ce ne saranno altre due per evocare le linee di metropolitana di una città vicina chi possiamo trovare tra i linguisti diciamo quelli che vennero poi molto dopo naturalmente e si fecero portavoci di un discorso approfondito sui linguaggi di programmazione sulla loro influenza sul modo di programmare Ken Iverson un matematico inventa una notazione per la manipolazione delle matrici questa notazione viene descritta in un libro che modestamente si chiamava A Programming Language il linguaggio viene poi implementato nel 62 e cito Iverson perché effettivamente lui credeva realmente che un linguaggio di programmazione fosse una notazione questa notazione influenzasse il nostro modo di vedere il mondo e quindi la scelta di una notazione adeguata fosse fondamentale per la programmazione questa è una citazione non di Iverson ma di Babbage fatta da Iverson al discorso che lui fece in occasione dell'accettazione del premio Turing premio che viene conferito agli informatici in sostituzione del premio Nobel dove voi vedete che effettivamente sollevando il pensiero da lavori necessari una buona notazione lo rende libero di concentrarsi su problemi più avanzati e in effetti aumentare aumentare ricordatevi questa parola il potere la capacità mentale della razza ok questa citazione che era di Babbage naturalmente ci introduce direttamente ai profeti però io per parlare dei profeti visto che probabilmente è tardi voi siete già annoiati ho pensato di introdurre un piccolo gioco a premi senza premi che cosa vi ricorda questo libro questo libro non l'ho mai letto ma ne ho sentito parlare a pranzo dal professor Berardi che me l'ha raccontato con vividi dettagli quindi è come se l'avessi letto però l'autore è Douglas Adams questo che cosa c'entra con l'informatica allora ecco questo è il gioco premi che cosa c'entra Douglas Adams con l'informatica non suggerire Stefano come? avendo letto il libro o non l'avendo letto perché non l'avete fatto in realtà in realtà non serve leggere il libro è proprio quello il mio punto non serve leggere il libro allora la prima io mi sono divertito questo gioco di associazioni prima connessione Monty Python lui è un autore è stato un autore della BBC e ha scritto almeno un episodio della serie Flying Circles di Monty Python e come sapete i Monty Python hanno dato il nome al linguaggio Python un'altra connessione dei Monty Python e quindi di Almas con l'informatica è che la parola spam nasce da uno sketch dei Monty Python in cui la carne in scatola spam che veniva mangiata nel dopoguerra dagli inglesi perché non c'era nient'altro di meglio viene usata per riempire questo menu che prevede uova e spam uova e pancetta e spam uova e spam e spam e questo è l'origine appunto del concetto di spamming vedete questa crescita esponenziale di spamming un'altra connessione è con i Procolaharum famoso gruppo progressivo inglese 1967 esce questo 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 disco A Wider Shade of Pale con un tema di organo meraviglioso copiato un po' da Bach però effettivamente non del tutto l'organista Matthew Fisher è laureato in informatica è laureato in informatica al Watson College di Cambridge di cui è diventato anche un Distinguished Fellow probabilmente non per motivi informatici però si trova appunto in questo elenco di Distinguished Fellows assieme a Tony Hoare Samson Abramsky e Robin Gandy che era amico e allievo di Turing e qui ci rigolleghiamo con l'intervento precedente però più che tutto a parte gli scherzi Douglas Adams ha realizzato un documentario che voi potete vedere a questo indirizzo il primo documentario sul concetto di ipertesto quindi in questa avventura di perfezionamento dei nostri sistemi notazionali sono arrivato ai visionari veri nel senso informatico sono arrivato ai profeti dell'ipertesto e quindi a un filone diciamo di sviluppo dell'informatica il documentario si intitolava Hyperland abbastanza interessante e in questo documentario vengono presentati quelli che sono i pionieri del concetto di ipertesto prima di tutti Vannevar Bush personaggio gigantesco sia per importanza intellettuale sia anche per potere politico queste sono le sue cariche non approfondisco la lettura di questo elenco l'elenco delle sue lauree ad honore credo che prenderebbe più di un lucido ha realizzato una macchina magari la menziono dopo questo analizzatore differenziale che è una macchina analogica per il calcolo che tra l'altro venne usato poi ancora fino agli anni 50 anche per calcoli balistici durante la guerra è bello che questa persona con un immenso potere politico ha comandato 6.000 scienziati di fatto come responsabile durante la seconda guerra mondiale tutti i lavori in qualche modo connessi con la guerra erano controllati da lui che era capo di questo ufficio alla fine della guerra scrive questo meraviglioso articolo che si intitola As We May Think che è che è una proposta di un nuovo strumento che dovrebbe permettere agli uomini di organizzare la conoscenza raggiunta e accumulata proprio durante il lavoro bellico non è un compito così circoscritto lui si strugge realmente per il fatto che qualche cosa possa andar perso della conoscenza umana e inventa la macchina che si chiama Memex proprio motivandola con l'esigenza che noi abbiamo di fare ordine e di trovare tracce all'interno di questa enorme montagna di ricerca che era stata prodotta appunto durante la guerra e che si potrebbe dire continua a essere prodotta adesso vi leggo soltanto questo anche se questo mi porta ulteriore ritardo c'è una crescente montagna di ricerca ma c'è una insomma un'evidenza crescente che noi siamo impantanati oggi man mano la specializzazione si estende il ricercatore è sopraffatto dalle scoperte dalle conclusioni di migliaia di altri lavoratori conclusioni che non può trovare il tempo di afferrare molto meno di ricordare man mano appaiono tuttavia la specializzazione diventa sempre più necessaria per il progresso e lo sforzo di stabilire un ponte tra le discipline è superficiale in modo analogo è proporzionalmente superficiale scusate le leggi della genetica di Mendel furono perse per il mondo per una generazione perché la pubblicazione non raggiunse i pochi che erano veramente in grado di capire voi vedete quest'uomo si istrugge realmente per per questa impossibilità appunto di dominare la conoscenza il memex è questo congegno di uso individuale che è una specie di biblioteca privata meccanica memex memory extension è un acrostico un memex è un congegno in cui un individuo memorizza tutti i suoi libri i suoi le sue appunti e le sue comunicazioni che è meccanizzato in modo che possa essere consultato a grande velocità naturalmente intervenivano delle scoperte tecniche tra cui quella anche dell'accesso rapido ai microfilm che lo stesso Bush aveva fatto nasceranno forme interamente nuove di enciclopedia pronte con una rete di piste associative trese un termine tecnico che le percorrono pronte per essere fatte depositate nel memex e amplificate questo discorso naturalmente nasce con tecnologia povera non adatta appunto alle ambizioni però è un discorso che viene raccolto da da Gengelbart che realizza un certo numero implementa un certo numero di strumenti tra cui il mouse che serviranno poi a implementare questa grande visione di Bush tra l'altro Engelbart scopre l'articolo di Bush in una capanna delle Filippine di Bita Biblioteca lui era in guerra era in marina entra in questa capanna e cercava qualcosa da leggere gli viene in mano l'Atlantic Monthly dove lui legge l'articolo di Bush anni dopo alla fine della guerra ancora con questa idea di questo articolo questa suggestione dell'articolo scrive tra l'altro Bush e gli racconta la sua idea poi non so come sono andati a finire questi rapporti però sicuramente Engelbart è un personaggio molto influente lavorava all'Esserai a Palo Alto è un inventore essenzialmente forse uno degli inventori più importanti del secolo per certi versi anche a lui si deve il concetto di ipertesto perfezionato a partire dalle idee di Bush e anche il concetto di word processing passiamo rapidamente a un altro visionario Ted Nelson un progetto Zanadu 1960 questa è l'invenzione del termine ipertesto il concetto non è suo forse ma il termine ipertesto l'ha inventato lui con ipertesto intendo scrittura non sequenziale un testo che si può ramificare e che permette scelte al lettore non ristretto dall'ordine sequenziale noi possiamo creare nuove forme di scrittura che riflettono meglio la struttura di quello di cui noi stiamo parlando non è nuova quest'idea per esempio qui voi avete un testo non sequenziale che è una famosa poesia di Mallarmè scritta alla fine dell'Ottocento quindi ci sono composizioni dei futuristi insomma le parole libere i caligrami di Apollinaire esperimenti di Ardengo soffici però l'ipertesto è qualcosa di diverso è qualcosa che permette appunto di rendere versatile un testo adattarlo alle esigenze di un individuo che appunto provisto di un memex funzionante un po' meglio di quello di Bush può sfruttare questa versatilità infine Arankei è quello che raccoglie queste idee vede come i suoi precursori Bush Engelbart e Ted Nelson e realizza quello che è il personal computing attraverso le sue i suoi esperimenti con i bambini nelle scuole di Palo Alto andava faceva usare il computer e realizza quella che noi oggi siamo abituati ad utilizzare come interfaccia grafica realizza un linguaggio di programmazione meraviglioso che si chiama Small Talk un linguaggio orientato agli oggetti non il primo ma forse il più influente prima c'era Simula in qualche modo in qualche modo è all'origine della nostra concezione dell'object orientation adesso ecco dopo Babbage che cosa c'è ci sono varie altre linee di metropolitana vi ho già menzionato Bush con l'analizzatore differenziale non voglio insistere però voglio soltanto dirvi che Shannon è stato lievo di Bush in questo progetto Shannon è nato lì anzi credo che l'articolo di Shannon sull'uso dell'aritmetica binaria dell'algebra di Bull per modellare circuiti a rele sia nato nel contesto proprio di questo lavoro e poi c'è una tradizione che è quella in cui si è inserita la professore Saron che è prima di me ed è la tradizione della logica matematica io ho menzionato Gregory come algebrista è un po' all'origine dell'algebra della logica almeno così dice Francesco Barone in questo suo libro Logica formale Logica trascendentale effettivamente è un'analisi convincente seguito da molti altri una linea in cui possiamo trovare degli altri profeti che nel 1936 danno origine a quello che qualcuno ha chiamato un miracolo non molto miracoloso in realtà comunque l'idea che nel 1936 si definisce un concetto assoluto di calcolabilità di funzione calcolabile meccanicamente appunto attraverso i lavori di Turing attraverso però i lavori di Clini di Church di Curry di Post Post è stato particolarmente scalognato perché ha lavorato su questo tema nel 1920 poi il suo lavoro non è stato riconosciuto ha dovuto poi scrivere dopo delle cose meravigliose però appunto di molto posteriori al 1936 è un articolo famoso del 1943 molto bello ma ormai era tardi e questo è il filone della logica matematica profeta e io ne scelgo uno è Giuseppe Peano perché Peano sempre in questa idea che io sto propagandando di informatica come sforzo di una razza di perfezionare le notazioni per migliorare le capacità di calcolo ecco veramente Peano è stato un profeta e questi sono giudizi non di Peano ma su Peano dati da eminenti personaggi della linea che vi ho fatto vedere prima cioè la linea della logica matematica la linea rossa Russell diceva che vi sono al massimo una dozzina di concetti dei quali sono formati tutti i concetti di tutta la matematica pura geometria comprese il professor Peano il quale aiutato da una preparatissima scuola di giovani discepoli italiani ha dimostrato come lo si possa fare e Hilbert addirittura menzionato prima dal professore Saronchi dice che uno strumento indispensabile per la mia teoria della dimostrazione è l'ideografia e si devono all'autore classico di questa ideografia Peano la più scrupolosa l'accuratezza e la più estesa elaborazione aveva già dimenticato il suo epistolario con freghe Hilbert era già molto invece molto favorevole all'ideografia di Peano ieri il profeta Peano scriveva così in latino sine flexione ultimo in tempore e non minus interessante de precedentes es calculo logico incepto a bleibniz et secuto par bule eccetera latino sine flexione è la lingua ideale che Peano aveva inventato per comunicare i suoi risultati in cui formula il suo formulario di matematica almeno nelle ultime edizioni che è appunto la sua opera massima opera sue della sua scuola scuola che vedeva Pieri per esempio Bacca Vailati e altri eminenti matematici e filosofi italiani questo è il principio di induzione io prossima settimana comincerò a fare logica non lo farò così il principio di induzione però Peano lo scriverà così lo assicuratevi questo non è questa è la la vena profetica di Peano ieri oggi che abbiamo abbiamo la stessa idea modernizzata solo un esempio Vladimir Boevotsky classe 1966 medaglia Filz nel 2002 quindi premio Nobel per la matematica lavori di comologia motivica complicatissimi lavori inarrivabili per me infatti volevo dirvi solo il nome per darvi evocare proprio la difficoltà dell'argomento cosa fa? propone mentre risolveva varie congetture aperte propone perché gli viene questa idea una matematica meccanizzata quindi una matematica interamente formalizzata tra l'altro sulla base di teoria dell'omotopia credo che siano lavori che hanno la radice in questa famosa lettera di Grotandica Quillen Pursuing Stacks anche qui lavori molto esoterici però l'idea è quella di avere una matematica completamente formalizzata e formalizzata in quale formalismo? Koch il suo progetto alla il suo progetto alla sua proposta di progetto alla National Science Foundation iniziata da Bush tra l'altro e questo è proprio un ritaglio della pagina della proposta credo che sia stata finanziata all'Institute for Advanced Studies e questo è dove ci porta la profezia della generazione diciamo dei logici della linea dei logici oggi questa è una proposta dell'anno scorso per concludere ho approfittato fin troppo della vostra pazienza abbiamo visto la storia vi ho raccontato la storia come se fossi un nonno davanti al caminetto che parla ai nipoti tutte queste storie hanno una morale normalmente e la morale è che noi abbiamo visto delle persone non abbiamo visto dei prodotti tecnologici abbiamo visto delle idee anche visionari anche marginali tuttavia lo stesso Alan Kay che ho menzionato prima al discorso di accettazione della laurea d'onore dell'Università di Pisa tra l'altro nel 2007 5 anni fa dice la vera rivoluzione del computer deve ancora accadere ora questo può sembrare drammatico io credo che sia opportuno ritornare al passato per per prendere slancio per il futuro per prendere idee d'altra parte se non ci ricordiamo chi eravamo non sappiamo neanche chi siamo lo stesso Kay diceva che il futuro si può prevedere soltanto inventandolo e questa è una citazione celebre di Kay però ho scoperto che non è di Kay in realtà l'ho cercata negli articoli di Kay è un oscuro rapporto tecnico di Kay c'è effettivamente questa citazione di Cesare Pavese Cesare Pavese ha studiato il Dazzeglio come me come la professoressa Ronchi quindi è torinese anche lui cosa possiamo rispondere? Ci stiamo lavorando grazie ci sono domande? parlando di attività clandestina come quella di Xerox Park che ha condotto al primo personal computer secondo la tua presentazione non dovremmo dimenticare che il primo personal computer è arrivato da Ivrea e si chiamava il programma 101 aveva anche un nickname che si chiamava Perottino perché era fatto da quattro ingegneri di cui il capo era erotto lavorando in clandestinità perché la direzione di Poli Verti non era d'accordo di fare i calcolatori elettronici vogliono volevano macchine elettromeccaniche da vendere alle banche alle poste eccetera e la scoperta di questa macchina al mondo e però venuto in America perché quando l'hanno presentato a World's Fair nel 1965 a New York era stato rimesso in una piccola stanza accanto a quella che presentavano le macchine elettromeccaniche di Olivetti ma c'erano degli americani curiosi che hanno sono andati in quella stanza e hanno chiesto la dimostrazione e quando l'ha programmato il programma 101 in pochi secondi aveva partendo dal suo programma che era la scheda magnetica ha calcolato l'orbita dei satelliti che erano argomenti molto in voga in quegli anni erano veramente affascinati per cui io darei un po' di credito per il personal computer al lavoro clandestino fatto a Islea sì evidentemente non sono stato sufficientemente campanilista grazie grazie sì mi dicono mi dicono dalla regia cioè dalla direzione che c'è su su c'è quello il computer di cui hai parlato vero? perfetto quindi perché adesso appunto tra l'altro proprio parlando di incontri tra Ivrea e l'America c'è l'inaugurazione della mostra adesso Luca di questa mostra dove ci sono computer Olivetti e computer Apple realizzando questo incontro a Cupertino effettivamente di cui tu facevi menzione non so se era a Cupertino questo incontro comunque questa anticipazione in effetti è perfettamente in linea con la mostra di hardware che c'è sopra curata dal MUPIN Museo Piemontese dell'Informatica grazie per queste informazioni dimmi Daniele a proposito di Babbage volevo aggiungere che mi pareva di aver letto che lui fosse venuto a Torino anche per cercare quei finanziamenti che in Inghilterra non gli davano più ecco questo lui non lo dice nella sua autobiografia però temo che sia vero sì era arrabbiatissimo quei suoi connazionali perché non gli hanno dato credito invece era entusiasta no gli avevano dato un sacco ma lui continuava sì prima prima e poi non continuava a non produrre qualcosa che per loro fosse sufficientemente hai ragione sì sì hai ragione in realtà probabilmente era un viaggio di affari lui era figlio di un banchiere quindi se ne intendeva di queste cose grazie a proposito della perottina il 90% di macchine però questa macchina di questo computer furono vendute negli Stati Uniti ah bene grazie se non ci sono altre domande io passerei a cose più concrete mi dicono che per gli ospiti c'è la possibilità di andare su per il pranzo un modesto rinfresco al primo piano al piano degli uffici d'accordo? grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti